Buateng a sorpresa! Agliardi in calcio d'angolo Buateng dopo l'anticipo riesce a dare in profondità per Pazzini uno contro uno di Pazzini trattiene l'avversario poi da giù Pazzini calcio di rigore e cartellino giallo Giampaolo Pazzini uno a zero sempre Diamanti a procorsi movimento a liberarsi apre bene il campo a destra c'è Motta va invece per linee centrali Diamanti vuole il movimento di acqua fresca eccolo che arriva Diamanti fa tutto da solo ancora Diamanti il sinistro a piedi in due tempi vuole prendere per mano la squadra Alessandro Diamanti Isharawi pronto a battere Buateng taglia sul primo pallo arriva Pazzini grande anticipo di Pazzini è pronto agliardi Diamanti chiuso di Isharawi subentra Carvalho fallo di Isharawi dice di proseguire l'arbitro Taider se lo mancia grande opportunità per il pareggio di Safir Taider oddia Diamanti ancora cerca poi il cross per acqua fresca illumina la serata del Bologna Alessandro Diamanti calcio di rigore calcio di rigore fallo di Nocerino che non sta giocando una grande partita ha sbagliato quasi tutto proprio su Diamanti e calcio di rigore per il Bologna Alessandro Diamanti 1-1 Guarente acqua fresca in area di rigore acqua fresca dentro Guarente grandissima opportunità per Tiberio Guarente Antonini Antonini e Isharawi grande giocata 3-2 Antonini sul fondo è pronto a traversone Antonini la mette sul secondo palo Pazzini c'è un contatto poi Agliardi calcio di punizione per il Bologna fallo su Agliardi di Boateng Di Sciglio Boateng si gira Boateng vuole in sinistro un'invenzione di Kevin Prince Boateng chiede palla a Boateng riceve dentro ancora splendido il pallone per Nocerino è arrivata una chiusura di Carvaio che ha salvato la porta del Bologna buono il lavoro di Gilardino poi passa il pallone malgrado l'intervento di Nocerino per Motta in area di rigore Motta cerca il destro e non trova la porta palla per Gilardino alta sopra la traversa diamanti la messa forte e tesa Abbiati non c'era arrivato viene avanti Ambrosini ancora a largo Antonini cerca un varco lo chiude Motta arriva il traversone deviato sale Agliardi perde il tempo perde il pallone Giampaolo Pazzini 2-1 Risciglio cerca il fondo lo trova ecco il traversone c'è un liscio Nocerino la piazza Giampaolo Pazzini tripletta 3-1 non male prima partita del primo minuto per Milan e dunque questa partita ci porta a